Io voglio saperne di più su mia moglie, ho un dubbio che voglio risolvere Amore, ma non crederai mica a questi sistemi da ciarlatani? La tavola non mente mai, risponde ad ogni quesito, soprattutto sulla vita di coppia E come funziona sta tavola? Innanzitutto lei porga una domanda, ma deve farlo a mente, lei pensi intensamente Ma è una truffa, dai! Poi unirete le vostre mani sull'indicatore che vedrete muovere sulle lettere dell'alfabeto e quelle lettere formeranno la risposta al quesito Ok, sono pronto Ma amore, lascia perdere E zitta, fammi provare, sta cosa la voglio sapere Bene, pensi intensamente alla sua domanda Mani sull'indicatore Si muove, guarda, si muove A, H A, H A, H Ma che sei incantato? A, H H E se è fermato? Ma vedi che non funziona Eh no, la tavola funziona sempre Solo due lettere, A, H Ma scusi, ma lei che domanda ha formulato? La ridica adesso ad alta voce Eh io ho chiesto, mia moglie è sempre stata fedele? Eh, e la risposta è Quindi è io ho chiesto, mia moglie è sempre in testa Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ho chiesto la passata